Allora spieghiamo un attimo che cos'è AIFI. AIFI è l'associazione di categoria degli operatori di private equity venture capital e rappresentiamo gli operatori che fanno in Italia gli investimenti nel capitale di rischio delle aziende. Allora equity come forma di finanziamento del futuro ma in realtà è una forma che già esiste e che però le aziende ancora o non conoscono bene o comunque non utilizzano a sufficienza. Perché? Quali sono i rischi che percepiscono le imprese e invece quali le opportunità? Certo, corretto. Per gli operatori sono già diversi anni che si raggruppano come associazione di categoria e che sono attivi sul mercato, ce ne sono circa 150. Però effettivamente i numeri dell'investimento del capitale di rischio che sono un 260 operazioni l'anno sono ancora bassi rispetto alle potenzialità di questo mercato e alle esigenze delle aziende di finanziamento. Quali sono i fattori che impediscono l'incontro tra domande e offerta di capitali? Effettivamente da parte delle aziende una certa non chiamiamolo rischio ma diffidenza ad aprire il capitale a un soggetto esterno, un partner che diventa socio dell'imprenditore, socio temporaneo nel medio e lungo periodo, non è un socio a tempo indefinito ma ci può essere diffidenza iniziale sicuramente a condividere l'impresa. Condividere l'impresa significa condividere non però la gestione operativa ma solo le decisioni strategiche quindi in realtà più che un rischio è un possibile contributo alla crescita dell'azienda. I principali vantaggi sono appunto la possibilità di affiancamento nel processo di sviluppo dell'azienda da parte dell'investitore quindi all'imprenditore e oltre che con i capitali che vengono apportati anche con il know-how dell'investitore con le competenze con le sinergie anche che possono derivare da altre partecipazioni in cui l'investitore ha già investito che ha già in portafoglio grazie a questo si può appunto affrontare un discorso di crescita insieme di sviluppo di anche acquisizione di posizioni su magari mercati internazionali quindi è un processo di crescita che si affronta insieme. Le imprese che cosa devono fare per essere pronte a un'operazione di equity? C'è diciamo un dimensionamento minimo che giustifica un intervento del capitale di rischio anche se non diamo numeri perché non sono tanto significativi. Il 90% dei nostri interventi sono comunque su PMI quindi questo per dare la forbice generale. Non ci sono dei requisiti specifici ma c'è appunto sicuramente un progetto ci deve essere un progetto di crescita un progetto di sviluppo e una certa apertura anche dell'imprenditore e del management. Quindi si dice sempre che la caratteristica più qualificante dell'incontro tra domande e offerte è proprio l'apertura, la volontà di condividere un progetto e anche la trasparenza perché sicuramente si va verso un discorso sempre più aperto al mercato quindi un discorso di certificazione, dei bilanci e quindi ci deve essere una condivisione di tutte le variabili chiave dell'azienda. Quindi maturità del progetto, un business plan su cui partire e poi la possibilità appunto di aprirsi anche ad un'ottica di condivisione su questo progetto. Ok benissimo. Noi oggi parliamo di finanza del futuro. Intanto quali sono le linee guida di questa finanza del futuro che già ora possiamo intravedere e magari possiamo capire se questa finanza del futuro è l'alternativa alla difficoltà di accesso al credito che soprattutto ultimamente le aziende lamentano. Ma credo che per parlare di finanza del futuro in termini concreti e non in termini futuristici bisogna comprendere per bene quali siano i nodi che sono alla base della finanza del presente oggi nel rapporto banca-impresa. Se andiamo a vedere quelli che sono i rapporti tra banca-impresa in questo momento in Italia in qualche maniera abbiamo un rapporto un po' troppo spostato verso un approvvigionamento del debito nei confronti del canale bancario. Circa il 70% dei debiti finanziari delle imprese sono di origine bancaria. La media OX è intorno al 50%, in Francia è sotto il 40%. Quindi sicuramente nel futuro ci dovrà essere un riequilibrio delle fonti di finanziamento delle imprese in modo tale che le imprese in qualche maniera non siano, se possiamo usare questo termine, legate mani e piedi nei confronti di un unico canale finanziario che è sempre un errore anche quando si parla di un rapporto fornitore-clienti per altri fattori produttivi. Quindi sicuramente nella finanza del futuro potrà esserci qualcosa che va verso l'attuale novità normativa dei mini bond, quindi le emissioni obbligazionarie anche per imprese non quotate. Ci dovrà essere sicuramente una maggiore capacità del sistema del capitale di rischio e quindi degli investitori istituzionali, dei private equity o anche dei venture capitalists di giocare un ruolo più importante nei confronti delle imprese e di rischiare insieme all'imprenditore. Potrà esserci anche, perché no, un ruolo più attivo da parte del mercato borsistico. È evidente che il numero delle imprese italiane che oggi sono quotate è eccessivamente basso rispetto al numero delle imprese quotate di altri paesi che hanno una struttura produttiva non molto dissimile dalla nostra. Tutte queste cose vanno riequilibrate. Poi c'è anche un'ultima novità che è proprio stata introdotta prima dell'estate dal governo Monti, ancora dal ministro Passera e devo dire che l'Italia è il primo paese europeo ad averla adottata dopo averla presa sostanzialmente dagli Stati Uniti e che è tutta la tematica legata al crowdfunding, ovvero sia la disintermediazione fra chi è detentore di risparmio e chi invece vuole lanciare una nuova attività imprenditoriale. Anche questa è una cosa che guardiamo con curiosità, con interesse e che se ben gestita potrebbe effettivamente essere una, diciamo così, finanza del futuro ma molto concreta e realistica per le nostre imprese. E per le nostre piccole e medie imprese, soprattutto le piccole e piccolissime, questi sono strumenti comunque alla loro portata, secondo lei? O che cosa dovrebbero fare per dirigersi in modo più concreto, migliore, più efficace verso questi strumenti? Allora, anche in questo caso, cosa intendiamo quando parliamo di piccoli imprenditori? Io direi che dobbiamo parlare di micro imprenditori. Il 95% delle imprese italiane, che sono circa 6 milioni, ha meno di 10 dipendenti. Allora è evidente che innanzitutto bisogna continuare in uno sforzo che il sistema imprenditoriale lo sta facendo, ha fatto e sicuramente è stato uno sforzo importante di enorme trasparenza nei confronti del, diciamo, sistema di donazione delle risorse finanziarie. Non può esserci più opacità fra finanza personale e finanza di impresa, che talvolta ha creato qualche, diciamo, discresia informativa e quindi qualche difficoltà nell'approvvigionamento delle risorse finanziarie. Poi c'è l'altro pezzo, diciamo, l'altro lato della medaglia, perché è vero altresì, soprattutto in questo momento, che il sistema bancario deve fare uno sforzo in più. Deve sicuramente riuscire a recuperare quella conoscenza nei confronti del sistema imprenditoriale italiano che recentemente, a seguito di un processo di fusioni, a seguito di un processo anche di adozione di regole legate al processo di Basilea, un po' si è perso. Oggi probabilmente le imprese italiane, come dire, non riescano a valorizzare quelle informazioni rispetto alla loro competitività che talvolta i bilanci non esprimono. Quindi sta da una parte alle imprese valorizzare quelli che sono gli asset importanti, che talvolta non vengono valorizzati. Pensiamo banalmente alla proprietà intellettuale. Dall'altra alle banche, a chi gestisce il risparmio, di conoscere, tornare un po' più in azienda, tornare un po' più al dialogo con gli imprenditori. Allora oggi parliamo di finanza del futuro. Quali sono le sue ricette e su che cosa si focalizzerà il suo intervento? I mercati per le piccole e medie imprese oggi in Italia sono una realtà accessibile per le realtà competitive che abbiano un'ambizione di crescita e siano alla ricerca di capitali a supporto di questa crescita. Oggi in Italia ci sono appunto mercati dedicati a questo comparto. Sul mercato in Italia, in particolare di cui parleremo oggi, le società quotate sono ormai 31, è un'esperienza recente con un paio d'anni di vita e sono 31 aziende che hanno raccolto capitale a supporto della crescita. Certo aziende che abbiano la possibilità di attrarre l'interesse da parte degli investitori, degli investitori professionali e istituzionali in particolare. Aziende che si dotino di quei requisiti di trasparenza, di governance e di quella struttura organizzativa che consente loro di raccogliere capitali sui mercati. Parlerò anche del programma Elite che è un'iniziativa di Borsa Italiana dedicata al supporto della crescita delle piccole e medie imprese. Supporto su più fronti, è una sorta di piattaforma integrata di servizi che mette a disposizione di aziende, in questo caso private, non quotate, tutte le competenze, la professionalità e il network che Borsa Italiana normalmente rilascia e mette a disposizione delle aziende quotate. Quindi parlo di formazione, parlo di tutorship per fare una sorta di upgrade del profilo dell'azienda dal punto di vista manageriale, organizzativo, della governance, della trasparenza informativa e di network con professioni, con investitori, con istituzioni che normalmente sono difficilmente accessibili alle piccole e medie imprese. Oggi Elite, in poco più di un anno di vita, conta 131 aziende, 131 aziende eccellenti, elitarie, che crescono, che internazionalizzano, che hanno margini buoni, che sono poco indebitate e che sono in vetrina, a tutti gli effetti, in una vetrina di opportunità che vengono proposte all'interno di questo programma. Sono programmi a cui rispondono anche le piccole o micro o piccolissime imprese o ancora c'è difficoltà per loro? Il programma Elite è accessibile alle aziende che hanno un fatturato superiore a 10 milioni di euro. Solo in presenza di tassi di crescita molto importanti deroghiamo a questo requisito dimensionale. Per quanto riguarda i mercati per le piccole e medie imprese, in realtà non c'è una dimensione minima prevista. Si sono quotate aziende con un fatturato veramente molto limitato, borsisticamente parlando non è il fatturato che rileva ma è più che altro il valore di mercato che la società riesce a ottenere al momento della quotazione e in presenza di piani e di credibilità del management e di un piano industriale che richiedesse risorse finanziarie che poi sono state raccolte sul mercato, il mercato ha risposto. Quindi non c'è una dimensione minima per i mercati. Per Elite, essendo un programma un po' più vasto come tipo di portata, abbiamo preferito indicare alcuni paletti anche per dare un messaggio ad un certo cluster di aziende. Però nulla vieta che aziende più piccole si quotino, che raccolgano equity o debito sui mercati del debito. Allora, in questo forum in cui ci interroghiamo sulla finanza, su come si finanzia il futuro, con lei ci interroghiamo anche su come deve essere la banca del futuro. Domanda molto generale, molto grande. Io posso rispondere per quanto abbiamo fatto. Però è pertinente, credo, è quello che farò anche adesso nel convegno. La mia tesi è che per poter essere futuro bisogna accettare di cambiarsi. Mi viene in mente una cosa che ha detto Einstein e che citerò. Con le regole che hanno prodotto una determinata situazione non si può cambiare quella situazione. Quindi bisogna cambiare le regole. Questo è il nocciolo profondo dell'idea di innovazione. Innovare una banca significa innovarla, cambiarla, avere il coraggio di cambiarla statutariamente, cioè nei tratti permanenti, non negli atteggiamenti, cambiare la fisionomia e non le espressioni. E farlo in funzione di una maggiore capacità di servire le esigenze di un mercato. Di un mercato grande e generalizzato, se si è una banca che ha tutti i target di pubblico oppure del pubblico particolare al quale ci si rivolge. Il nostro caso è il caso di una banca nazionale ma specializzata che si occupa specificamente di economia del terzo settore. Mi fa piacere che questo cambiamento genetico della banca che è stato prodotto dallo statuto ai comportamenti, parte dallo statuto e arriva ai comportamenti e prosegue nei comportamenti, si accompagna anche a un'altra cosa, che forse è una scoperta che questo Paese deve fare di una delle cose più belle che possiede, uno dei patrimoni più belli che possiede, e cioè il patrimonio dell'economia civile. L'economia civile e le libere organizzazioni dei cittadini è uno dei fulcri, dei punti di riferimento sui quali rifondare un'idea di Paese per il futuro. E lo dico fondatamente, non lo dico soltanto facendo appello a considerazioni morali. Non uso farlo, è generico e fa un po' riserva indiana dire che il terzo settore è fatto di buoni, di brava gente, di persone che ha tanti buoni sentimenti, che non ruba, eccetera. La cosa vera è che economicamente questo mondo ci ha consegnato due dati. Uno viene dal censimento e ci dice che ci sono 300.000 organizzazioni che all'interno ospitano quasi 5 milioni di volontari e un milione di persone retribuite, che sono quante ne impiega la scuola o quante ne impiegano il tessere chimico sommati e non basta. E quindi è una bella realtà dell'economia. E secondo, e ce lo dice anche l'esperienza di Banca Prossima, io non sono venuto qui a raccontare in quanto momento di promozione, ma in qualità di esempio di studio, aspettandomi anche un dialogo con chi è presente, anche con chi fa parte della piccola e media impresa, siamo in una sede di PMI, quindi per potermi confrontare su questo terreno, abbiamo scoperto anche la sostenibilità di questo mondo. Questo è un mondo che, detto in termini bancari, non defaulta per il momento. Può soffrire, può andare sotto pressione, può avere mille motivi di preoccupazione verso il futuro, anche perché il Paese se ne vanta, ma si dimentica che esista regolarmente, intendendo Paese in tutte le sue componenti, anche istituzionali. E dicevo invece che questo mondo è anche molto solido, è molto sostenibile. Oggi noi possiamo dire di avere in banca qualcosa come 7.000 organizzazioni che chiedono credito, più altre 20.000 che non lo chiedono, ma magari depositano, fanno attività più ordinarie. E di tutto questo mondo, di queste 7.000 che si sono indebitate con Banca Prossima, la qualità del credito è del 99,2%, che è un numero che, confrontato con quelli che il collega Calugi sapientemente ci dirà, fa paura perché l'Italia sta in questo momento a un deterioramento a due cifre nel credito.